Qual è l'appuntamento da non perdere per questo sabato? L'Associazione Cultura Nazionale presenta un altro grande evento, viene un altro grandissimo giornalista, Toni Capuozzo, molto noto della TV, del TG5, viene a presentare un libro sul terrorismo islamico, è un graphic journalism unico nel suo genere, un libro fumetto che spiega un po' la sua vita e quello che lui ha fatto e ha scoperto per quello che riguarda il terrorismo islamico, il terrorismo dell'ISIS, tutto impreziosito anche da foto, da esperienze che lui ha fatto sul campo, diciamo. Quindi un grande evento di cultura nazionale che c'è questo sabato, sabato 10, alle ore 17, alla Feltrinelli Ponte, siamo orgogliosi di avere un altro grande personaggio nella nostra associazione, quindi invitiamo tutti gli aretini a partecipare numerosi. Ecco, voi portate appunto sempre temi di strettissima attualità, ricordiamo anche il caso di Davide Rossi che poi insomma ancora è diciamo all'attenzione delle cronache, sui casi aretini farete qualche incontro? Noi abbiamo già fatto, quando venne Davide Vecchia a presentare il libro su Lady Etruria, quindi sulla Maria Eliana Boschi, quindi abbiamo già fatto degli eventi su Arezzo e ne faremo, perché Arezzo comunque è attenzionata dall'opinione pubblica in generale e appena se ne, come dire, ce ne sarà l'occasione sicuramente li faremo, comunque è già stato un bel antipasto quello su Lady Etruria. Grazie.